Ciao amici di Music Planet, siamo qui a Roma e stiamo per andare a intervistare Restate con noi Allora ragazzi, vi avevamo annunciato un ospite speciale e siamo qui con la mitica Noelle, quando nasce questa passione per il canto? Allora nasce che ero piccolissima perché mio papà suona e mia mamma, anzi mio padre l'ha fatto Castrocaro nel 72, mia mamma la prima cosa che fa la mattina accende la radio quindi insomma mi sono sempre sentito molta musica E poi ho sempre suonato il pianoforte e la chitarra e è nato così ecco La prima è che si piacerebbe sul palco? Ho cantato nei pianobar, poi ho la mia band, ho avuto varie band e mi fa morire che molti prosti in cui non mi facevano suonare adesso li fanno entrare e mi dicono ah quando vuoi? Sappiamo che diciamo da briciole hai diciamo cacciato fuori un sacco di pezzi cantati, cantati, cantati Diciamo cosa si prova proprio a sentirle poi cantare dai fan, dalle persone comunque che si E' una cosa bellissima perché le canzoni hanno valore quando vengono apprezzate da tante persone e il fatto di sentire qualcuno che canta con te un pezzo che tu hai sentito per la prima volta da sola nella tua stanza è la cosa più bella Perché poi live è la cosa più importante perché ti rientra dietro e indietro tutta quell'energia che tu metti quando canti e non c'è paracone Da me, da te, da quello che non c'è stato mai Che X Factor non hai vinto però sei la vincitrice comunque Si, è stato un modo per arrivare a più gente possibile ed è stato veramente, poi io stavo in squadra con Morgan che è stato un grande big malione per me E quindi mi è andata bene, sarebbe bello arrivare in questi programmi con delle canzoni inedite e belle, inedite e belle per farle sentire a più gente possibile e non arrivare lì sguarniti, ecco questo è il mio consiglio Perfetto, allora ti ringrazio tanto Grazie a te È stato un piacere conoscerti Grazie a te Da Noemi, Engie, ciao Regulp Grazie a te